Hanno cercato di far salire in macchina un immigrato che aveva opposto resistenza a pubblico ufficiale. Pochi istanti e in suo soccorso, come si può vedere dalle immagini girate dalle nostre telecamere, sono subito arrivate decine di extracomunitari che hanno strappato di mano il compagno e i poliziotti. L'intervento degli agenti, supportati anche dai carabinieri del comando di Cremone, da Don Pezzetti, direttore della Caritas di Ocesana, ha riportato l'ordine e la calma tra i migranti che sono stati convinti a sciogliere il corteo e a rientrare alla casa dell'accoglienza.